Buonasera cari telespettatori, grazie per aver scelto noi rispetto alla Germania-Portogallo, quanti saranno? Le donne, meglio le donne insomma, meglio così. Scherziamo, se non vado errato, prima di entrare in diretta la partita procedeva per la Germania 3-0, una bella batosta per quanto riguarda il Portogallo. Questo Cristiano Ronaldo poteva essere bravo, splendido, perfetto e tutto. Da solo poi. Esatto, noi scherziamo. Buonasera, grazie per averci scelto, questa come ben sapete è ai reporter per te. Sappiate che questa sera mi sono infilato in due tematiche veramente complicate e quindi ho bisogno di una grande spalla. Questa spalla è proprio quella di Lorenzo De Vecchi, presidente CAF CISL Veneto, che ne ringrazio per essere qui e aver rinunciato magari calcisticamente al Mondiale. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Ecco qua, paga e tasi. Oggi noi sorridiamo perché ormai gli italiani hanno preso un po' questo modo di fare, il fatto di essere, si diceva proprio poc'anzi, sudditi ormai dello Stato, di pagare e di subire qualsiasi cosa sorridendo e via. E quindi provocatoriamente, come conoscete un po' il mio stile, ho messo paga e tasi. Quindi sorridiamoci sopra ma mica tanto, anche perché oggi appunto si dice è il giorno in cui si sborsano tanti quattrini tra la scadenza dell'Imu e cose varie, insomma c'è veramente da non sorridere ma da piangere. Per quanto mi riguarda ho pagato una bella cifrona per l'Imu. Dice, eh, sarai ricco. No. Chi mi conosce sa bene che ho una casettina a Milano, che mia mamma ha sudato, ho una vita di lavoro e quindi non sono ricco e per lavoro sono qui nella bella regione del Veneto. Tante altre persone in Italia magari fanno questo tipo di vita e quindi insomma per lo Stato a volte sembrano possidenti, ma non è così. Partirei subito da questa tematica e poi vi già anticipo un pochino, successivamente parleremo di partecipate, c'è il cambio di poltrone con l'insediamento appunto della nuova amministrazione locale sapete che varie entità importanti come, che ne so, l'APS va insomma a un rinnovamento magari dirigenziale. Ne parleremo, approfondiremo a breve. Ecco qua allora, parliamo di paga e tasi, partiamo dal capire insomma che cos'è innanzitutto la tasi perché continuano a cambiare acronimi, insomma sigle e noi cittadini siamo un po' confusi. Io vi invito davvero, approfittatene, 049 80 777 57 a porre domande insomma a Venturato che ne sa ed è qui a disposizione. Io l'ho bombardato di domande perché non ci ho capito veramente niente. Ho capito soltanto che c'è una sigla che racchiude tre tasse purtroppo importanti e si chiama IUC e racchiude la famosa tasi di cui parleremo, l'Atari e l'Imu. A lei spiegare un pochino che cosa sono tutte queste cose. Buonasera, ringrazio a voi dell'opportunità per aiutare i cittadini a districarsi in questa giungla. È stato impegnativo per noi. Siete dei professionisti, ricordiamo. Abbiamo al nostro interno tanti professionisti in grado di svolgere, credo adeguatamente, questo compice. È stato impegnativo per noi e quindi immagino che sia stato terrificante per il normale cittadino, il normale contribuente. L'imposta unica comunale... La Presidente è come Venturato, ora mi rendo conto, come Lorenzo De Vecchia, mi perdoni. Prego. Imposta unica comunale, la IUC, ha solo questo nome, questo acronimo, che poi di fatto non ha più nessun seguito significato, perché è fatto da tre imposte diverse. Una che trascuriamo subito, che è quella legata al servizio di smaltimento, di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la TARI, che l'anno scorso si chiamava TARES, però cambia l'acronimo, ma rimane la stessa imposta, è calcolata con le stesse modalità, questi criteri, che veniva applicata dai diversi comuni, con proprio regolamento anche negli anni scorsi, fino all'anno scorso. Quindi nulla di nuovo, è cambiato solo l'acronimo. Su LIMU si è una situazione di stabilità dall'anno scorso, in quanto l'imposta municipale sugli immobili si applica su tutti gli immobili, fabbricati, abitazioni, attività commerciali, attività produttive, terreni. C'eravano anche, mi viene da dire, dei vecchi, che c'eravano anche un pochino illuso. Giusto, dicendo che spariva? Certo. Lo ricordo bene, perché ho sperato tanto. I progetti di riforma di tutta la imposizione sugli immobili, sui fabbricati, ormai hanno tanti anni di storia. I libri, probabilmente, gli studiosi della materia hanno potuto anche vendere parecchi testi su questo, fare tanti studi, tanti convegni, però siamo ancora alla situazione che di anno in anno queste cose si modificano. Ecco, però, ripeto, per l'Imu non si è modificato nulla rispetto al 2013, almeno su questo. Noi non abbiamo avuto particolari problemi, perché già la normativa dell'anno scorso ci consentiva di calcolare già nei mesi scorsi, noi già dai mesi di aprile, per i cittadini che ci chiedevano come dovevano comportarsi rispetto all'Imu, parliamo, seconde case, fabbricati a diversa destinazione, abbiamo da subito elaborato le dichiarazioni, i bollettini, i pagamenti, e per cui i cittadini erano in grado ad assolvere i propri obblighi previsti dalla legge. Il dramma è la tasi, paga e tasi, perché tra l'altro, io, a di là di tutte le cose che possiamo dire, viola uno dei principi basilari del rapporto tra cittadino e lo Stato, è la propria, l'organizzazione sociale civile che ci rappresenta, quindi non a caso le battute iniziali e sul fatto di come si sentono i cittadini, paga e tasi. E questo è l'umore dei cittadini. Perché ai comuni è stato consentito di deliberare entro il 23 maggio, ma di pubblicare delle delibere entro il 31 maggio, quindi 16 giorni prima della scadenza i comuni potevano modificare e decidere come e quanto far pagare i propri cittadini per questa tasi. Vorrei ricordare che per quanto ci riguarda il territorio di Padova sarà a settembre, giusto? Perché il comune si è appena insediato, l'amministrazione si è appena insediata e quindi devono ancora decidere qual è l'arriquota, giusto? Certo, però anche lì poi c'è la deroga sulla deroga, nel senso che è previsto già dall'annunativa che ha prorogato il pagamento della tasi per i comuni che non hanno già deliberato, perché il dramma è che per i comuni che hanno già deliberato in provincia di Padova sono 38, nel Veneto sono 222, voglio dire, sono un totale di oltre 500 comuni, per i comuni che hanno deliberato non c'è nessuna proroga, non c'è nessun rinvio. Per i comuni che non hanno deliberato tipo Padova c'è la possibilità per il comune di deliberarlo entro l'8 di settembre, ma se non lo delibera c'è un'ulteriore deroga che gli consente, che consente i cittadini, che obbliga i cittadini a pagare secondo un altro criterio ancora diverso con l'1%, in unica soluzione al 16 di dicembre. Quindi non è anche detto che con l'8 di settembre avremo il quadro definitivo, perché prima dell'8 di settembre sapremo quanti altri comuni hanno del percorso. Vi leggo velocemente qualche dato, ad esempio 27 comuni sborseranno 16,4 milioni di euro in assenza di Padova appunto stavamo dicendo per cui i delibere sono ancora tutte da decidere. È albignasico pensate un po' a vincere la classifica di chi prevede di ottenere più introiti, sto parlando logicamente dell'amministrazione, 2,45 milioni di euro attesi per un'aliquota del 2,5 per mille scusate e per una popolazione residente di 24 mila unità. Segue Vigonza e che poi sono tutti paesini piccoli insomma non grandi comuni guardate che introito quanti soldi. Dicevo segue Vigonza che con un'aliquota sull'abitazione principale del 2 per mille e una detrazione per ogni figlio a carico di 50 euro prevede introiti per circa 2,2 milioni di euro a fronte di una popolazione residente di 22 mila unità. Terza in classifica Abano Terme che pure con una liquida molto più bassa 1,2 per mille e una popolazione residente inferiore ai 20 mila unità prevede un introito pari a 1,97 milioni di euro. Gli alimenti che compongono appunto questa tassa ve li abbiamo appena poc'anzi insomma enunciati quindi racchiusi nella sigla però questo che diceva lei è il dato riepilogativo. Esatto. I criteri che poi il secondo aspetto oltre a quello dei tempi la ristrettezza dei tempi sono i criteri quei comuni che lei ha citato hanno applicato l'imposta con modalità completamente diverse. Esatto. Ci sono comuni che hanno applicato quell'aliquota su tutti gli immobili paradossalmente anche sugli immobili per cui i cittadini hanno già pagato l'IMU seconda casa o per altre destinazioni entro oggi e quindi in quei comuni che hanno deliberato o in altri comuni che deliberano i cittadini sullo stesso fabbricato pagheranno due imposte l'IMU e la Tasi ma questa cosa nei comuni che lei citava alcuni comuni hanno deciso in questi termini altri comuni hanno deciso di applicare la Tasi solo per le abitazioni di prima casa le abitazioni principali per il cittadino quindi anche i criteri e le detrazioni lei citava dalle detrazioni le detrazioni sono diverse allora la interrompo soltanto un istante perché lancio la pubblicità e torniamo a affrontare insomma questo tema 049 80 677 57 è l'iscritto e se ci sono domande approfittatene a tra poco a tra poco a tra poco e se ci sono domande e se ci sono domande